Un tuffo d'oro nella neve. L'azzurro Andrea Zingerle, campione mondiale di Biatron, ha vinto oggi a Borowiec, Bulgaria, la 20 km. A fine gara ancora tanta energia e quell'inciampo che resterà nella cineteca azzurra. Due russi dietro a Zingerle, Sergei Tarassov a 44 secondi, terzo Sergei Cepikov. Per Zingerle, 31 anni al tuo tesino di Anterselva alla valle del Biatron azzurro, un errore e quindi un minuto di penalità al tiro nella seconda delle quattro serie. Per Zingerle riscatto, solo parziale, della delusione dello scorso anno alle Olimpiadi. In testa per tre quarti di gara sbagliò gli ultimi quattro bersagli, addio oro e medaglia. Oggi Zingerle ha sbagliato prima e questo gli ha sì tolto subito un minuto, ma forse gli ha regalato tranquillità. Il Biatron è anche questo. Oggi undicesimo l'altro alto tesino Elmar Mutschlechner. Fra le donne 15 km, prima Petra Schaaf, Germania. Dodicesima Nathalie Zanter, l'azzurra di Dobbiaco in Alto Adige. Per lei grande prova sugli sci, ma il tiro sei errori e oltretutto solo quattro minuti.